Bisogna ripartire diciamo avendo ben chiaro in maniera sistemica che cosa fare per questo paese all'interno del quale poi tutte le varie problematiche che ovviamente non sono nate con il covid ma che ci portiamo dietro ormai da decenni, le infrastrutture, la giustizia, la fiscalità, la scuola, chi più ne ha più ne metta, trovino una logica soluzione. Io credo che in questo momento la priorità assoluta sia il lavoro, quindi lavoro, 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 privilegiare tutte le attività che possano creare lavoro perché il lavoro non si crea per decreto, anche perché con il lavoro le persone possono avere una vita dignitosa, possono consumare, quindi se non ci sono consumi poi non si pagano l'IVA, non si alimentano le casse pubbliche e non ci sono servizi adeguati, quindi lavoro, lavoro, lavoro.